Show cooking, pista di ghiaccio, laboratori del gusto. Il Natale a Messina entra nel vivo grazie anche alle associazioni come ConfCommercio che con la collaborazione dell'amministrazione di sponsor sta facendo vivere ai messinesi la magia della festa più attesa. Nei giorni scorsi è stato protagonista dell'appuntamento con lo show cooking lo chef messinese Pasquale Caliri del ristorante Marina del Nettuno che ha presentato due piatti molto particolari come il risotto al placton e il flam di gelato con pezzi di panettone. L'uomo faber del giorno è stato invece Dario Rifici titolare della pasticceria Calascione famosa soprattutto per i suoi lulù. A gustare i piatti dello chef Caliri oltre a tanti cittadini che si sono accomodati all'interno della struttura anche una giuria d'eccezione formata tra gli altri dal sindaco Renata Corinti, dal capo dell'ufficio di gabinetto del comune di Messina Loredana Carrara e dal presidente di ConfCommercio Messina Carmelo Picciotto. A servire i piatti e ad aiutare chef Caliri nella preparazione sono stati i ragazzi dell'alberghiera Antonello guidati dal docente Luigi Lacorte. Mattatore della serata è il sommelier Roberto Raciti che ha abbinato ai piatti due vini tipici siciliani, il Marino dell'Etna, un vino bianco d'oc prodotto dalle cantine Patria, e il Vinerello Mascalese, un vino spumantizzato rosè sempre delle cantine Patria. Nei giorni precedenti inoltre è stato inaugurato ufficialmente anche il presepe realizzato da Sebastiano Maddaferi con un'esenzione di 88 metri quadrati. Oggi il cartellone prevede alle 21 il concerto di Francesco Scarcina delle vibrazioni, mentre gli appuntamenti con gli show cooking vedranno come protagonista il gelato.